Si è tenuta questa mattina presso il coni di Avellino l'assemblea tecnico divulgativa per definire il momento attuale del volley in Irpini alla luce anche dell'incipiente accorpamento delle due federazioni provinciali di Avellino e Benevento a fare gli onori di casa il delegato provinciale Giuseppe Saviano. Da questo partiamo per parlare appunto dell'unificazione tra due comitati, tra due province Avellino e Benevento di una federazione che è molto ben messa sul territorio provinciale. Nessun dubbio circa l'efficacia della sinergia nelle parole del presidente della FIPA a Avellino, Felice Vecchione. La provincia di Avellino con i suoi 118 comuni e quella di Benevento con i suoi 78 comuni daranno vita effettivamente ad un comitato che rappresenterà un'immensa area geografica, grandi comuni, piccoli comuni, la forza di poter condividere questa scelta. Presente all'incontro anche Vito Mocella, presidente Panathlon di Avellino. Panathlon è un club di servizio e quindi come tale noi rendiamo un servizio alla pallavolo in questo caso, che è il secondo sport per numeri della provincia di Avellino, in un momento, in uno snodo importante della propria vita provinciale in quanto si va verso la fusione con la federazione di Benevento e quindi in questo momento favorito una serie di circostanze favorevoli. Grazie. Grazie. Grazie.